SIGEP porta con sé innovazione e tradizione, guardando al futuro con un forte spirito di networking. La dolce connessione mondiale, così è stata etichettata quest'anno la 38esima edizione del Salone Internazionale della Gelateria, della Pasticceria, della Panificazione Artigianale e del Caffè, che si affaccia sul mercato artigianale miliardario in cui il Made in Italy guadagna e mantiene il primo posto. Una definizione in cui la parola connessione rappresenta al meglio il tema focale di quest'anno, ossia la collaborazione, la partnership, ma anche l'integrazione e lo scambio di idee e di professionalità, dove grandi marchi si confrontano per offrire il meglio sul mercato in termini di qualità, di gusto e di tecnologia. Questa connessione trova la sua massima espressione durante gli innumerevoli eventi, che sono organizzati proprio all'interno della manifestazione e che coinvolgono gli operatori professionisti del settore e del pubblico interessato. Rimini Fiera si colora di gusto, di competizione e di show cooking dal 21 al 25 gennaio. Il gelato artigianale è il protagonista principale di German Challenge, iniziativa rivolta alla produzione Made in Italy che in Germania ha trovato grande spazio di crescita, che vede competere 70 gelatieri tedeschi per ottenere l'accesso diretto a 8 posti al Gelato World Tour di Berlino, la cui tappa è fissata dal 7 al 9 luglio 2017. Si tratta di una competizione itinerante sviluppata a livello mondiale alla ricerca del miglior gusto di gelato. L'iniziativa è organizzata da Carpigiani Gelato University e SIGEP e conta già le tappe di Roma, Valencia, Melbourne, Dubai, Austin, Berlino, Rimini, Singapore, Tokyo e Chicago. All'interno della pasta Austria Arena trova spazio il campionato mondiale Juniors di pasticceria, dove 10 squadre, provenienti da tutto il mondo, mettono in campo la fantasia nelle nuove creazioni alimentari dedicate al settore. Il focus evento quest'anno è dedicato al Planet Fantasy, il potere della fantasia. Protagonista di SIGEP 2017 è il caffè, che entra a pieno regime anche nella definizione della fiera e si fa spazio nel settore. Tra gli eventi di rilievo per questo comparto vanno citati i campionati del circuito internazionale World Coffee Events, il primo talent show ideato dall'italiano Francesco Sanapo, pluripremiato campione baristi che promuove la cultura del chicco del caffè. Barista in Farmer è un progetto che desidera raccontare, attraverso un format che unisce educazione e competizione, l'essenza della filiera del caffè, dalla raccorta impiantagione alle diverse tecnologie applicate nella lavorazione, dalla degustazione alle opportunità di business. Attorno a questi eventi principali e alle novità di prodotto si sviluppa questa edizione di SIGEP, fiera che riesce sempre a conquistare i professionisti del settore e gli appassionati.